Quando si soffre, quando si è in un momento difficile, tutto quello che è superficiale, banale, viene messo da parte. Con la sofferenza noi tocchiamo le cose essenziali della vita, se rimaniamo aperti, perché si può essere anche molto egoisti dentro la sua sofferenza. Se io mi rinchiudo su me stesso, se io guardo solo me stesso, rischio di non vedere né giudicare il mondo com'è. Posso vedere tutto in maniera molto negativa e questo non mi fa crescere. Ma certamente, se rimango aperto, tutto quello che è banale e superficiale verrà messo da parte. E arrivo allora a una maturazione per quale motivo? Perché trovo dentro di me una libertà che la mia dipendenza fisica potrebbe invece aver messo da parte. Non sono più libero fisicamente perché soffro, ma sono chiamato a cercare una libertà interiore. Allora lì inizia la mia crescita spirituale. Attraverso la mia sofferenza io scopro che c'è qualcosa di più grande dentro di me. Quella sofferenza fisica non è niente se non vado a cercare quello che sono le mie capacità interiori. Quella sofferenza non mi limita se io non lo voglio. Mi ricordo la storia di un uomo che è stato redattore della rivista per donne che si chiama Elle in Francia. Ha scritto un libro che si chiama Lo scafandro e la farfalla. Lui ha avuto una malattia che l'ha paralizzato totalmente e poteva muovere solo le pupille. E quindi ha fatto questo libro con una persona che lui sceglieva le lettere attraverso le pupille muovendole. E lui diceva di sentirsi uno scafandro perché era chiuso dentro il suo corpo. Ma una farfalla perché l'immaginazione non aveva limiti. Ecco, nella sofferenza possiamo diventare farfalle. Nella sofferenza possiamo essere liberi. Nella sofferenza possiamo crescere e diventare giganti come mai. Basta però aprire alla profondità che abbiamo dentro. Una profondità gigantesca che ci fa toccare Dio.